www.telecentro.it 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 Buonasera a tutti, grazie di essere qua con noi, poi c'è anche un cadeau che vi farò vedere nel corso della trasmissione, però prima vorrei fare un ricordo a un grande del basket toscano che ci ha lasciato pochi giorni fa, vale a dire coach Enzo Cardaioli. A te Federico, due parole di ricordo di questa grande persona e grande coach. Grande persona, grande coach, non soltanto per il panorama toscano ma direi per quello nazionale, una persona veramente di spessore. Io da poco più che ragazzino andavo a vedere tutti gli allenamenti possibili che c'erano a giro per Livorno e in Toscana e ogni volta che andavo a vedere gli allenamenti di Cardaioli erano un insegnamento per professionalità, concentrazione, modo di insegnare a tutti. dal giocatore più importante affermato al ragazzino che era magari a fare per la prima volta il allenamento con la prima squadra. Quindi veramente un maestro per tutta la Toscana, lo ricordiamo con grande affetto. Assolutamente sì, prima di entrare nel merito della trasmissione, ovviamente c'è il pizzo da pagare a chi viene qua a questa trasmissione e stasera mi hanno portato la maglietta, la canotta della Garda di Toscana Resort, notare il numero che è stato fatto scientemente, no? Notare il numero, fra l'altro questa è anche della mia misura che è quasi una sorpresa visto la taglia ridotta del sottoscritto, davvero grazie a te, a tutta la società e al presidente Giovanni Catino. Allora, fatte le doverose presentazioni, andiamo a vedere quello che è accaduto con le grafiche della bico Stefano Regoli di Basket World Life e di Toscana Basket World Life, andiamo a vedere i risultati della Serie B nazionale. Un turno particolarmente interessante, c'erano due squadre toscane che si affrontavano, anzi meglio, quattro squadre toscane che si affrontavano tra loro. La PL ha battuto Piombino, 102 a 92, una partita fantastica, due partite ne ho viste tante, ma questa è una delle più belle che ho visto. Poi la Libertas si conferma in gran forma andando a spugnare il mai semplice parquet di Avellino con l'ennesima prova difensiva, veramente molto molto bella. Andiamo a vedere anche la classifica, sempre con le grafiche dell'amico Stefano Regoli che saluto. Eccola qua, è un campionato nazionale ma che parla toscano, perché in testa c'è Monticatini a quota 20, poi a 18 c'è la Libertas, a 16 la coppia composta dall'altra squadra di Monticatini, la Gemma e dalla caffè toscano PL Livorno. Piombino che è la quinta toscana, non è che sia poi tanto lontana perché è in quinta posizione appaiata da altre squadre a quota 14. Questo è quello che ci ha detto la giornata sotto il punto di vista dei numeri, andiamo nel vivo di queste partite, Mitch partendo dalla tua squadra, vale a dire la caffè toscano PL, è stata una partita fantastica, veramente bella, bella, bella. È stata una partita dove gli attacchi hanno sicuramente prevasto sulle difese, è stata una partita dove avevamo bisogno di toglierci la cosiddetta scimmia dalle spalle, perché arrivavamo da due sconfitte di fila, l'abbiamo fatto nel corso della partita, cambiando anche qualcosa tatticamente e poi come dicevamo appunto gli attacchi hanno nettamente prevalso sulle difese a beneficio dello spettacolo per il pubblico presente. Tra l'altro arrivavati come dicevi giustamente tu da due sconfitte di fila, quella di Monticatini diciamo la verità anche abbastanza bruttina, avete avuto una grande reazione, soprattutto secondo me quando loro sono andati avanti anche di mi pare 11 punti, è stato il loro massimo vantaggio, ecco la chiave è stata lì, al di là del fatto che quando siete rientrati nel secondo tempo dopo aver chiuso il primo sotto di 8, avete messo subito le cose in chiaro, un parziale di 8 a 0 che ha pargiato la partita. Sì, non eravamo assolutamente contenti di come avevamo chiuso la partita con Gemma, non tanto per il risultato perché Gemma è una squadra di alta classifica, lo sta dimostrando e quindi perdere sul campo di Gemma ci sta. Poi eravate senza chiarini va detto. Sì, senza nasconderci dietro le assenze, anche a loro mancava Mazzantini per esempio, quindi non è quello che ha fatto la differenza, anche se Matteo per noi è un giocatore fondamentale. Credo però che la cosa brutta sia stata l'atteggiamento remissivo della squadra nella seconda metà della partita, che non è piaciuto in primi sei giocatori, ovviamente poi anche noi come staff ci abbiamo lavorato tanto durante la settimana e poi ci aspettavo un banco di prove importante perché poi in casa, con la pressione, sapevamo di non poter sbagliare e secondo me abbiamo vinto una partita importantissima, non scontata e le importanti insomma. Sì, tra l'altro la chiave secondo me è stata la difesa vostra dopo l'intervallo lungo, perché Piombino ha segnato 53 punti nei primi 20 minuti e 39, che sono tanti ma non tantissimi, per una squadra come Piombino nel secondo tempo, dove tra l'altro Piombino ha tirato anche con un percettuale molto più basse rispetto ai primi due tempi. Sì, abbiamo cambiato qualcosina sulla difesa del pick and roll per provare ad arginare un pochino quello che era il pick and roll tra Piccone e Berra, che ci ha fatto molto male nei primi due quarti, dopodiché è vero la difesa è stata un po' imputata sotto gli occhi dei riflettori, però c'è anche da dire che Piombino è una delle squadre con più talento di tutto il campionato e arginarli non è così come dirlo, per il tipo di pallacanestro che fanno, a tutto campo, rapida, senza pensieri, giovane, proprio sfruttando pieno il talento dei giocatori che hanno. Quindi, bene così, insomma, alla fine abbiamo un pochino arginato quell'aspetto lì e in attacco abbiamo continuato anche noi a fare un'ottima prestazione. Senti, mi c'è l'impressione, vedendo Piombino, che è una squadra che fa una sorta di run and gun, magari estremezzo il concetto, ma comunque è quello, quanto è difficile provare a abbassare i ritmi oppure l'onda di giocare alta velocità ti travolge? No, bisogna riuscire a controllare un po' le palle perse in attacco, la qualità dei propri tiri, dopodiché loro ripartono ad ogni rimbalzo difensivo che prendono, fanno rimesse veloci e è nelle loro caratteristiche, per cui è un aspetto che si può frenare, ma i 90 punti quasi di media partita che hanno dimostrano che non è stato un problema della PL, ma è più una caratteristica importante di Piombino e del loro modo di giocare. Sì, assolutamente sì, tra l'altro va detto per onestà di informazione che Piombino ha dovuto fare a meno dopo otto minuti di Turello e poi anche di Cappelletti che ha avuto un problema muscolare. Federico, detto della PL, due parole le merita anche Piombino, perché è una squadra che sta facendo veramente molto molto bene, al di là della sconfitta che ci sta a Livorno. Sì, secondo me è la sorpresa di questa prima parte di campionato, formazione che ha avuto tanti infortuni, nonostante questo continua a giocare una ottima pallacanestro e quindi c'è soltanto da fargli complimenti. Ieri hanno finito, secondo me, non in debito di ossigeno perché sono arrivati bene a giocare anche il finale, però è una squadra che a questo punto è un po' corta, piccone, mi sembra che alla fine abbia giocato 40 minuti, tutto il resto hanno cercato di recuperare anche un po' di energie facendo larghi tiratti di zona, un tipo di difesa che in passato ha messo un po' in difficoltà la PL che invece ieri è riuscita a attaccarla bene, soprattutto nel terzo e quarto quarto. Quindi veramente anche una bella squadra da vedere giocare con giocatori di talento e divertenti da vedere. C'è un messaggio, tra l'altro talvolta abbiamo dei problemi di ricezione di messaggi, se qualcuno non se li vede visti e letti ecco la motivazione. C'è un messaggio, vorrei sottolineare al di là della bellissima partita la comunione di intenti tra le due tifoserie, e questo è veramente molto bello, c'erano tanta gente di Piombino, no Mitch? Sì, sì, è bello, è stata una partita molto partecipata dal nostro pubblico come sempre, non è una novità e anche da tanta gente di Piombino che è venuto a sostenere i propri ragazzi, quindi questo crea spettacolo nello spettacolo. Poi Piccone, se posso intervenire, fra ieri sera e oggi ha fatto un bellissimo post dove ringrazia l'atmosfera, i propri tifosi di Piombino che l'hanno accompagnati alla partita e incitati dall'inizio alla fine, ma anche dell'ambiente che ha trovato a Livorno dicendo che è il sogno di ogni giocatore riuscire a giocare davanti a tante persone e un clima del genere. C'è un altro messaggio sempre sulla PL, dice il nostro amico questa vittoria deve far sì che affrontiamo, affronteremo le ultime partite difficili con maggiore benzina, perché voi avete un calendario di antemale, no? Sì, in realtà poi tutte le squadre in alto in classifica si devono ancora scontrare perché Irons deve ancora giocare con la Libertas, noi dobbiamo ancora giocare sia con Libertas che con Irons e quindi sarà poi un campionato che il giro di Bola andrà a stabilire proprio nelle ultime giornate del giro d'andata. Sono tutte partite difficili, è un luogo comune dirlo, ma il livello medio del nostro girone è molto alto quindi senza pensare troppo a scontri diretti, noi adesso abbiamo una trasferta che di per sé è logisticamente impegnativa e non dobbiamo fare passi falsi lì, poi pensiamo anche agli scontri diretti. Tanto tutti guardando la classifica possono dire che è una partita semplice, anche no perché comunque la classifica di Salerno è falsata dai punti di penalizzazione e poi lì ci ha perso Irons. Ci ha perso Irons, ci ha perso Legnano e ci ha perso anche Brianza che è una squadra comunque comunque giovane e imprevedibile, per cui bisogna andare con il rispetto dei propri avversari consapevoli che per noi sarebbero due punti d'oro per mantenere il rullino di marcia. Una grande partita Francesco tra due squadre che soprattutto la Piale non nascondono ambizioni importanti. Sicuramente le Toscane quest'anno il Serie B la fanno un po' a parola voce grossa, sicuramente le due di Montecatini e le due di Vornesi sono secondo me le più attrezzate, più che altro le più continue anche rispetto alle altre squadre. E Piombino subito dietro, Piombino tra le altre cose come avete già detto voi fa una palamestro veramente piacevole da vedere, Cagnazzo e Formica stanno facendo un ottimo lavoro sicuramente allenando quella squadra, hanno costruito la squadra proprio prendendo giocatori adatti a quel tipo di gioco lì, Berra che pochi conoscevano è estremamente funzionale al tipo di palacanestro che vuole fare Damiano, quindi già da agosto o luglio hanno costruito la squadra, hanno lavorato bene, hanno lavorato per fare quel tipo di palacanestro lì che non è semplice perché prima chiedevi come fermarli, non è semplice fermarli perché sono estremamente veloci nel ripartire ma anche proprio nel gioco a metà campo giocano con leggerezza, tirano dopo un passaggio senza problemi, nessuno ha da ridire su questo tipo di oltre perché è proprio una cosa che vogliono fare loro. Se posso aggiungere, Berra in effetti fino ad oggi è veramente uno dei migliori giocatori del campionato, ieri ne hanno messi 28. E ha anche un tocco e una capacità di lettura non comune, è veramente bravo. Dall'altra parte, l'altra parte della medaglia non è un rim protector, non è uno che protegge il ferro benissimo, infatti Piombino soffre molto le penetrazioni, anche ieri Chiarini che ho rivisto molto più in gas, sta secondo me ritrovando una condizione atletica importante, è stato bravissimo ed è arrivato al ferro con continuità anche per questo motivo qui. Diamo un'occhiata anche alle prestazioni individuali, partendo da Piombino, da Oscar, quella di Piccone, 26 con 4 su 8 da 3, tra l'altro 28 di Berra, 14 su 18. Nella PL che ha portato non 1, non 2, non 3, ma 5 uomini in doppia cifra, 30 di Chiarini in 33 minuti di utilizzo, 17 di Campuri che ha giocato veramente una super partita, 3 su 4 da 2, 3 su 3 da 3, 12 di Uff, 15 di Pagani che ha giocato molto bene con il gustoso contorno di 7 rimbalzi, 12 di Rubini, questo per dare il quadro delle prestazioni individuali. Vorrei sottoporti due considerazioni, la prima è che avete perso soltanto 5 palle perse, avete perso soltanto 5 palle, e questa è un po' una novità, voi siete la seconda squadra quanto a palle perse. Sì, è vero, è un dato che abbiamo notato anche noi, ci stiamo lavorando, un po' deriva dal fatto che noi non ai livelli di Piombino, ma siamo comunque una squadra che gioca ad alto numero di possessi, che prova ad attaccare il ferro tutte le volte che può e spesso e volentieri nel cercarci, nel cercare le collaborazioni con i nostri lunghi andiamo per perdere palloni che alle volte possono sembrare banali, però rientro un pochino nel processo di conoscenza che stiamo percorrendo dall'inizio dell'anno e il fatto finalmente che si vedano dei risultati in una partita dove comunque era importante perderne pochi, era una delle armi per provare a farli correre un pochino di meno, siamo contenti di esserci riusciti. E poi un'altra statistica che secondo me non è banale è che avete vinto la lotta sotto i rimbalzi, sotto le plance contro la squadra che prende più rimbalzi del campionato, 45 a 39 e in quest'ottica vorrei sottolineare i 12 rimbalzi di Lobiondo, che magari si è visto poco in attacco, però ha dato tanta concretezza. Andrea sta facendo un percorso di crescita importante anche sotto l'aspetto della sua proprio maturazione, non è più dipendente solo ed esclusivamente dalla sua produzione offensiva, ma si sta mettendo in gioco con tante cose utili, innanzitutto è un giocatore molto più solido difensivamente rispetto all'obiondo visto la scorsa stagione e poi come dici tu è un giocatore che sta lottando molto di più rimbalzo facendo valere i propri centimetri, non era proprio nelle sue corde questo tipo di aspetto, però ci sta lavorando tanto, è un ragazzo molto determinato e anche lui sono contento che colga i risultati di questo lavoro. C'è un altro messaggio, vorrei chiedere a Coach Belletti per quale motivo Chiarini talvolta ne fa 30 e talvolta 10? Se ne facesse sempre 30 oppure se sapessi rispondere a questa domanda probabilmente saremmo prima, ma fa parte delle prestazioni individuali. Però quando ne fa 30 sceglie bene, nel derby, ieri che era una partita importante. Sì, però sottolineo un aspetto di Matteo Chiarini, ha fatto prestazioni roboanti come quella di ieri, però ha fatto anche partite dove ha messo dei canestri della staffa decisivi pur segnando poco, per cui lui per noi è un riferimento in campo, soprattutto nella metà campo offensiva, non solo quando segna 30 punti, ma avercelo in campo significa poter mettere quel canestro decisivo che avrebbe voluto mettere per esempio anche contro Megna se fosse entrato il suo layup alla fine avremmo vinto anche una partita molto complicata, perché lui si prende quel tipo di responsabilità. È un po' il vostro leader. È un leader silenzioso, poi ne abbiamo altri. Ne abbiamo altri, un leader nostro carismatico a livello di personalità che fa tante cose utili a discapito dei punti segnati è Luca Campori, che ieri ha fatto anche i punti segnati, però lui è leader difensivo assoluto, suona sempre la carica, spesso mette la museruola ai giocatori migliori dell'altra squadra, ha fatto prestazioni difensive di livello assoluto e poi anche lui ha dimostrato in più occasioni, ieri è stato uno di quelle, che può essere decisivo anche in attacco. C'è un messaggio che chiede la differenza tra il Campori dello scorso anno e questo. Secondo me, allora... Paradossalmente, scusami Mitch se ti interrompo, ma magari sentiamo anche Francesco e Federico su questo. Paradossalmente il fatto di uscire dalla panchina forse gli ha tolto qualche responsabilità, però effettivamente come dice il nostro amico sembra un altro giocatore. Allora, siccome c'è il vantaggio di tutti i giocatori che rimangono all'interno dello stesso club per più di un anno, con lo stesso staff tecnico, perché sanno già quelli che sono gli obiettivi e sanno già dove si vuole andare a parare. Un anno di vantaggio di lavoro non è per nulla, perché sennò poi si finisce anche per sminuire un po' il lavoro che si fa quotidianamente. Il secondo aspetto è che quest'anno ha un ruolo leggermente diverso. L'anno scorso giocava da guardia con Federico Loschi da tre che trattava il pallone, giocava le uscite, i tiri da tre punti. Quest'anno Luca esce dalla panchina e gioca da tre. Gioca tanto senza palla, gioca in campo aperto, forse in un ruolo che più gli si addice. Dimmi due parole su Campoli, Federico. Allora, sono super d'accordo con quello che ha detto il coach di Campoli, che lo conosce meglio di noi, lo vede in ogni allenamento. Sicuramente è cresciuto rispetto all'anno scorso, migliorato nelle letture probabilmente perché è già il secondo anno che con lo stesso coaching staff. Sul ruolo sono d'accordissimo. Il primo anno addirittura giocava da tre, quattro, quindi il passaggio che c'è stato un anno e mezzo fa è stato veramente un passaggio importante perché era finito da giocare da guardia, da due. Quest'anno però è il leader difensivo, difende sempre sul giocatore più importante e tante partite le ha girate lui nella metà campo difensiva. Ieri secondo me non ha giocato una prima frazione super o quantomeno non mi è rimasta negli occhi, ma la seconda e il secondo tempo, terzo e quarto quarto, è stato decisivo quello che veramente ha contribuito in maniera determinante per portare la partita a casa. Anche sul tiro io lo vedo più fluido e più sicuro nel prenderlo senza pensarci. Poi un grandissimo playmaking secondario, ancora non lo ha, però continuando a lavorare con Cardani sicuramente riuscirà a migliorare anche sotto quell'aspetto lì. Prima di chiudere l'argomento Caffè Toscano PL, due parole le merita anche Pagani che ieri ha fatto veramente molto bene, 15 punti in 20 minuti con 7 rimbalzi. Mitch e poi anche Francesco sul centrone della PL. Io credo che la continuità delle prestazioni di alto livello di Giordano sia una cosa che dobbiamo cercare e che può essere la discriminante che ci fa competere definitivamente per tutto l'anno per le primissime posizioni. Quando lui protegge il ferro difensivamente, quando lui lotta a rimbalzo, quando lui diventa così un riferimento in mezzo all'area sia da situazioni dinamiche di pick and roll sia da situazioni statiche, pochi altri hanno lunghi di quella fisicità che possono competere con lui. Per adesso non è stato ancora così continuo. Può derivare dal fatto che magari nell'ultima stagione non abbia avuto tantissimi minuti di utilizzo secondo te? Indubbiamente quella è una chiave. È una chiave però. Questo comporta delle responsabilità dappertutto. In questa piazza, non nascondiamocela, qualcosina in più perché giochi davanti a tanta gente sotto le luci dei riflettori e concludo dicendo che lui invece è al primo anno quest'anno all'interno della PL e quindi dobbiamo anche concedergli un attimo di tempo per adeguarsi al nostro sistema di gioco e alle richieste che gli facciamo in campo. Io aggiungo al volo ma veramente al volo che secondo me non da quest'anno per ruolo è uno dei giocatori potenzialmente più forti del campionato e sono ammirato da come è bravo Cardani a riuscire ad aspettarlo all'interno della singola partita perché da spettatore esterno esterno e diciamo guardo le partite e tante volte non parte nella maniera migliore e non riesce subito a essere efficace o concreto. Cardani secondo me è bravissimo ad aspettarlo perché poi porta sempre qualcosa in cambio come ha fatto anche ieri negli ultimi 7-8 minuti dove è stato importantissimo. La pillola su Pagani? Francesco? È un… Hanno detto tutto loro? Hanno detto tutto loro, poi c'è l'allenatore sì che… no però sicuramente è un giocatore importante, importante è un giocatore che è l'unica cosa appunto la continuità forse e deve trovare però sicuramente c'è il coach qui quindi loro sanno cosa hanno in mano e le potenzialità che ha il ragazzo e quindi faranno di tutto per svilupparlo in modo migliore. Bene, dal Caffè Toscano PL al derby di Montecatini, tra l'altro si parla sempre del pubblico di Livorno, anche ieri erano 2.500 ma anche a Montecatini quando c'è l'evento la gente ci va perché ieri c'era veramente tanta gente al palaterme per il derby tra Irons e Gemma, Irons era spuntata a 70-68, abbiamo anche gli Highlights con Gemma che era avanti anche di 8, mi pare 52-44, lì la partita paradossalmente è girata perché Irons ha messo un parziale 10-0 andando avanti nel punteggio e poi la portata sia pur soffrendo fino in fondo. Diamo un'occhiata anche alle prestazioni individuali, 13 di Chiera, 16 di Sgobba che sta facendo un campionato straordinario, 10 di Arrigoni da una parte, di là 10 di Ripizzo, 13 di Korsunov, 15 di Mastrangelo. Mazzantini ha giocato 8 punti in 20 minuti. Per Irons si tratta della quinta vittoria di fila, Federico. Allora innanzitutto... È stata un derby, scusami se ti interrompo un po' la fotocopia di quell'on Supercoppa, Gemma che ha lottato poi alla fine di cortomuso per usare un termine di Allegri, l'ha spuntata io. Allora è stata una bellissima partita dal punto di vista delle emozioni, a fine terzo-quarto c'è stato questo break al quale facevi riferimento te e Chiera e soprattutto Sgobba con due tiri a tre punti hanno ricuscito le distanze ma secondo me è stato non dai numeri ma dall'atteggiamento è stato Benitez il leader emotivo che ha ricuscito lo strappo. Poi la partita si è portata avanti veramente con un susseguirsi di emozioni fino alla fine e poi Irons è stata brava a chiuderla. Sì, sono la squadra che fino ad oggi sta portando avanti quelle che erano le aspettative di inizio anno. La classica squadra di Barzotti, grandissima intensità, cambi continui in campo e di giocatori che si alternano, grandi ritmi e sta facendo bene. Ora anche per loro inizierà la parte, come diceva prima bene Mitch, di scontri con le squadre di pari livello di classifica ma fino ad oggi hanno fatto bene come tutti quanti credevamo. Quindi complimenti, ma complimenti anche a Gemma perché visto che ci siamo poi finisco e lascio la parola ai colleghi, anche Gemma mi ha fatto una buona impressione. Sia nella partita con la PL nella quale giustamente è stato in coach e deve fare un po' di autocritica ma secondo me in quella sconfitta lì c'è tanto merito di Gemma che ha fatto una buona partita e anche ieri si è dimostrata veramente di essere una squadra coesa che gioca in maniera ordinata con democrazia offensiva di alto livello perché si passano la palla e sono coinvolti tanti giocatori. Quindi tutte e due le squadre di Montecatini veramente da applausi. Dimmi due parole su Gemma. Mitch l'avete affrontata otto giorni fa. Gemma forse in fase di allestimento della squadra in estate è stata un po' sottovalutata. Noi da detti ai lavori ci siamo accorti subito che si stava andando a comporre un roster magari di giocatori che non erano entrati nelle prime scelte di altri club ma di giocatori di altissimo livello con un allenatore esperto e messi insieme hanno grande fisicità, grande talento e tanti punti nelle mani. Per cui non mi sorprende vederli lì in cima. Hanno perso una partita adesso con Irons dopo una serie di vittorie di fila tra quelle con noi diciamo hanno vinto a Piombino con grande autorevolezza mandando sempre 5 uomini in doppia cifra e quindi attestandosi con merito dove sono. Hanno perso con Irons perché probabilmente Irons in questo momento è la squadra più solida e effettivamente in questa prima parte dell'anno la squadra da battere. È una di quelle squadre che ha cambiato anche poco e le aggiunte che ha fatto sono aggiunte di valore assoluto perché Benite se sgobba oltre a essere perfetti per quel sistema sono anche giocatori di altissimo livello. C'è un messaggio proprio su Montecatini. Si parla tanto di Livorno ma anche a Montecatini non scherziamo quanto a pubblico. Beh l'avevo detto c'è stata una grande condizione di pubblico anche a Montecatini è una piazza storica del nostro basket no Francesco? Sì sì ho visto la partita in televisione è stata veramente bello vedere sia la cornice di pubblico che anche la qualità di pallacanestro. La parte canestro di alto livello, le difese secondo me hanno fatto un po' da padrone, sono state estremamente aggressive, tutte e due le squadre non hanno mai mollato. Sembrava in alcuni momenti che potesse prevalere una poi l'altra e sempre stata combattuta. Secondo me Gemma al limite alla fine se avesse vinto la partita non avrebbe rubato nulla. Sembrava una partita equilibrata finita di due punti. È stata una gran bella partita a vedere. Gemma secondo me è un'ottima squadra che a me se la giocherà fino alla fine. Conosco l'allenatore, ho iniziato con Marco ad allenare perciò... Lo conosci bene? Lo conosco bene e faccio un po' di tifo anche per lui. Ovviamente. Eh ovviamente. Quindi niente sono convinto che rimarrà lassù insieme a Montecatini e a tutte e due le squadre di Livoro che sono... Perché poi noi parliamo tanto, ci impiamo un sacco di discorsi, le difese, raddoppio, non raddoppio. Poi una partita che vede una squadra vincere di due vai a vedere le cifre e poi magari se la Gemma invece di fare 18 su 26, che è il 69%, fa e ci sta 21-22 su 26 come ha fatto nelle partite precedenti, cambia tutto. Sì. Questo è il basket, no? Questa è la palla canestro. È anche vero che Irons alla fine l'ha vinta con due... anzi, tre azioni difensive, tre stop difensivi sugli ultimi attacchi veramente da squadra ben organizzata e capace di gestire perfettamente quei possessi difensivi. C'è un messaggio, uno dei tanti, per Mitch, su una squadra che non è toscana ma correttamente ti faccio la domanda e poi andiamo a parlare dell'altra rappresentante del Gran Ducato. Buonasera, volevo fare una domanda al coach PL. Ritiene che Omegna sia una squadra molto pericolosa? Grazie alla risposta. Magari ci guardano tramite internet anche da quelle là di tutti, dai. Come fa tuo padre, no? Esatto, esatto. Ma anche i miei suoceri sono di Omegna, le mie ragazze è di Omegna, quindi ho allenato quattro anni lì. Omegna è una squadra, quando prima parlavamo di budget e investimenti, è una squadra che è stata allestita per essere ai piani altissimi e più o meno con una partenza un po' adentica per allentatore, però ormai ci siamo, nel senso sono due punti dietro di noi. È una squadra di primissima fascia che dimostra ancora di più quanto alto sia il livello di questo campionato, però assolutamente sono una squadra che può battere tutti e che può… avevano probabilmente un problema gestionale, hanno fatto una scelta coraggiosa e ne sono usciti molto compatti, adesso hanno un'identità chiara di squadra. Il riferimento chiaramente è al taglio di Chinellato che ieri è esordito con Avellino. Con Avellino. Io non conosco la situazione, quindi non mi addentro, però l'ho vissuto esternamente, so che lui è stato messo fuori rosa, prima di averlo messo fuori rosa hanno avuto tutta una serie di problemi, tra cui anche qualche sconfitta roboante, dopo averlo messo fuori rosa hanno perso con Irons, probabilmente erano ancora un po'. Ci sta, per prima cosa, però era anche un po' presto per cogliere i frutti della scelta, dopodiché hanno vinto, mi sembra, cinque partite consecutive e di conseguenza semplicemente confermano quelli che erano i pronostici, sono una squadra a vertice. Io l'ho visto qua a Livorno e mi ha impressionato Baldassari, giocatore veramente, dava l'impressione che ogni volta che aveva la palla poteva succedere qualcosa. Sì, sì, poi qui a Livorno hanno fatto delle prestazioni individuali importanti. Marco Torgano, che è stato anche a Omenia quando ci sono stato anch'io in un altro ciclo di lavoro, ha fatto una prestazione da tre punti, probabilmente lui è uno dei migliori tiratori del girone. Balanzoni è un totem, per cui secondo me come budget, come investimento, come roster allestito non si può dire che non siano una competitor. Senti, se dico che è la squadra più forte delle non toscane vado lontano dal vero? No, no, secondo me dici il giusto, ma secondo me è al nostro livello, semplicemente hanno avuto qualche problema all'inizio. Per quanto riguarda la Toscana, secondo me, voi toscani, io sono piemontese. Ma toscano d'adozione. Esatto, ormai al terzo anno qui, però dovete godervi un po' questo momento, che deve responsabilizzare un po' tutti, addetti ai lavori e società, perché c'è veramente un momento di grande partecipazione per la palla canestro. Partite con tanto pubblico, le Toscane al vertice della B1, che è un campionato totalmente diverso dalla vecchia Serie B, quindi secondo me è un motivo d'orgoglio e di attenzione nel curare che questo patrimonio non vada disperso nel giro di poco. Assolutamente sì. Un'altra squadra che sta facendo benissimo tra le Toscane è la Libertas. La Libertas ha colto la settima vittoria di fila ad Avellino, che è un'altra squadra molto accreditata, che aveva cambiato allenatore da pochi giorni. nella seconda con Crotti. La grande partita della Libertas Federico, perché ha vinto 69-64 e lo ha fatto senza quello che è forse il centro più forte o tra i centri più forti dell'intero campionato, va a dire Tommaso Fantoni, che tra l'altro l'unico scorso era seduto proprio su quella serie. Sì, hai fatto bene la fotografia di quello che è accaduto, sicuramente la squadra è tornata in gas, una vittoria importante perché sottolinea due aspetti. Uno è quello della ritrovata solidità difensiva che non si è vista soltanto nell'ultima partita di Avellino, ma è stata un crescendo nel ciclo di queste sette vittorie consecutive. La solidità vicino al canestro c'è sempre stata, è stato il marchio di fabbrica dello scorso anno, la squadra riesce a essere solida anche quando manca un giocatore di primissimo livello come Fantoni, mi sembra che siano migliorati anche sulla difesa che fanno gli esterni. Fino a qualche tempo fa troppi falli e qualche errore, invece la squadra è veramente coesa e solida perché come succede nello sport e anche ovviamente una palacanestro tanto lo fa la tecnica, tantissimo, lo fa la condizione fisico-atletica ma è anche la testa e il morale che ti portano a fare quello step in avanti per migliorare il tuo rendimento. Ora si vede che tutti i ragazzi sono in fiducia e il rendimento è conseguente. In più, e finisco il pensiero, secondo me Libertas è quella che ha il roster più profondo, forse insieme a Ruvo sono le due squadre che hanno il roster più profondo, dove a volte mancano giocatori importanti e riescono in questo momento a superire senza grossi problemi. C'è un messaggio che dice ma di Ricci ne vogliamo parlare, dateci tempo. Arrivavo proprio a Ricci che ha segnato 22 punti in 30 minuti, giocatore che se è in giornata vince le partite da solo quasi, Francesco. È un giocatore importante e sicuramente si beneficia anche del fatto che tutta la squadra di Libertas sono giocatori da tenere d'occhio. Ci sono il roster profondo e sicuramente è una di quelle squadre costruite per arrivare fino in fondo. Hanno il coach Andreazza, sicuramente uno che dedica tanto tempo alla difesa, perciò il fatto che siano tornati a difendere come hanno sempre fatto le squadre di Marco per me non è una novità. So quanto tempo dedica perché l'ho seguito quando era a Piombino, so quanto tempo dedica anche durante la settimana alla difesa, a costruire le difese sulle altre squadre, perciò da questo punto di vista io ero abbastanza tranquillo che sarebbero tornati sui loro livelli. I giocatori importanti ne hanno tanti, può essere Ricci una volta, può essere altri giocatori, da Lucarelli a Fratto, tanti giocatori importanti, quindi secondo me è una squadra che se la giocherà fino in fondo poi chiaramente... Tra l'altro, tornando a quello che diceva Federico sulla profondità del roster, ieri Andreazza ha portato 9 uomini al riferto con Ricci a 22 e Lucarelli a 14 in doppia cifra. Williams ha fatto bene a livello di assist, si sta inserendo nel contesto, a Libertas è una squadra che difende benissimo Mitch, concede il 44 dal 2 e il 31 dal 3, la squadra che subisce meno punti, è un po' il marchio di fabbrica di Andreazza, no? Sì assolutamente, poi penso che per corpi ed esperienza che mettono in campo, oltre al marchio di fabbrica di Andreazza che ovviamente sottoscrive, confermo, avendoci giocato contro sempre tante volte da avversario, c'è quell'esperienza in più che in questo momento tra l'altro sembra un pochino pagare, perché le due squadre che stanno guidando il nostro girone sono quelle che hanno l'età media un po' più alta e il roster un pochino più profondo. Può essere un minus valore andando avanti quando si giocherà spesso? Ma in realtà abbiamo già giocato spesso, siamo all'ultimo turno infrasettimanale del giro d'andata, può essere, però secondo me sono proprio concezioni con cui sono stati concepiti i roster, Irons e Libertas hanno puntato su riconfermare quasi tutta la squadra e sui giocatori che hanno già esperienza e che hanno già vinto. Squadre tipo la nostra hanno puntato sul talento, sulla freschezza fisica, su un nucleo di giocatori che erano già stati insieme e contiamo con il secondo anno di lavoro e con l'esperienza che i ragazzi stanno maturando nella prima parte dell'anno di essere definitivamente competitivi per potercela giocare alla pari. Quando poi magari la freschezza fisica in effetti potrebbe essere uno degli elementi. Dall'altro la Libertas ha allungato il roster perché Alinei è un giocatore importante, sta diventando tale anche Buca che ha giocato 18 minuti segnando 6 punti ad Avellino. Federico, sulla crescita di questo ragazzo c'era qualche dubbio invece e sta smentendo tutti. Sì, io l'avevo visto quest'estate fare qualche allenamento e sinceramente qualche dubbio l'avevo anch'io, tanto per dire che a volte i giudizi sono difficili da dare perché poi vanno visti nel contesto giusto. Ha lavorato benissimo questo ragazzo con l'atteggiamento giusto, è stato bravo Marco Andreazza a dargli fiducia in maniera progressiva un pezzettino alla volta, giocare 3 minuti per guadagnartene 5, giocarne 5 per guadagnartene 7 e così via e per ora sta ripagando. Poi bisogna vedere quando le cose saranno più complicate a livello di playoff dove le letture, la strategia, gli aggiustamenti sono parte integrante di quei momenti, se il ragazzo sarà pronto a giocare anche quelle partite lì, ma per ora sta dando una grande mano durante gli allenamenti e anche in partita si è sempre fatto trovare pronto. Se poi proprio al volo posso fare un passaggio su Ricci del quale parlavate prima, secondo me è stato fino ad oggi il giocatore più continuo perché anche nel periodo della tempesta o nel periodo buio di inizio campionato è stato sempre quello che ha reso di più, mi ricordo anche la partita di Piombino dove ha vinto meritatamente e Ricci ha fatto una super partita come atteggiamento, voglia di attaccare il ferro, di non arrendersi, di giocare in un ruolo che non è propriamente suo. Allora, tra l'altro sono arrivati, vi dicevo che tramite SMS abbiamo qualche problema, sono arrivati quattro tutti assieme e servirebbe mezz'ora per commentare, io lo leggo magari risposte veramente telegrafiche. La difesa di Allinei e Ricci sugli esterni di Avellino è stata da manuale del basket e poi dice il nostro amico Amos Ricci, giocatore insostituibile per la Libertad, di questo abbiamo parlato, ne abbiamo un'altra ancora. Gli Irons sono veri ed unici eredi del mitico Sporting Club Montecatini, ce lo dice Andrea, che ringraziamo per aver scritto questo messaggio, i tifosi Giamma non saranno ovviamente d'accordo, poi ce n'è uno che è lungo, ti chiedo a te perché c'è una vis polemica in questo messaggio, se Cagnazzo non fosse stato assente al corso allenatore di base quando spiegavano la difesa, Piombino sarebbe in testa, comunque subire più di 90 punti nelle ultime gare non è un bel segnale per PL, dice il nostro amico, e poi, questo è per te, San Vincenzo, assolutamente la sorpresa del girone, sono un po' vecchi e nella seconda fase possono fare più fatica, questo poi ne parliamo dopo della tua squadra. Sul Cagnazzo? Prova una pillola perché devo correre. Sul Cagnazzo io Damiano lo conosco bene, vado spesso, sono anche lì a vedere gli allenamenti e sinceramente no, non sono d'accordo, è un tipo di palacanestro che gioca a tanti possessi, si sa che giocando tanti possessi potranno subire tanti canestri, la fisicità della squadra sicuramente e le poche rotazioni che hanno avuto per tanti infortuni non aiuta nel costruire una difesa solida perché giocano spesso e volentieri con due piccoli in campo e non è semplice difendere sui fisici che ci sono in questo momento in Serie B. Azzaro gli è e è stata una sorpresa, 2004 se non mi sbaglio, dovrebbe essere tutti sempre e io comunque sia Damiano fa una bella palacanestro e va bene così. Teniamocelo stretto. Sì, io me lo terei stretto. Allora facciamo così, linea alla regia, siamo stati un po' lunghi con la B nazionale, linea alla regia e torniamo con la B interregionale. Noi dello studio immobiliare Melani Casa da oltre 36 anni siamo inseriti nel mercato immobiliare di Rivolno in provincia. Da sempre mettiamo la nostra esperienza al vostro servizio e siamo a fianco del cliente dalla visita dell'immobile al rocci notarie. Facciamo inoltre consulenze gratuite per la valutazione dell'immobile e offriamo servizi di ogni genere inerenti alla contravendita stessa. Vi aspettiamo dunque con fiducia presso i nostri uffici che si trovano a Livorno in piazza TS21C. Dentisti il sorriso, una realtà livornese al servizio del cittadino, con alta professionalità a costi sociali. Dentisti il sorriso, l'unico vero sorriso della tua città. Hai avuto un sinistro? Puoi far tornare la tua auto come nuova? Puoi farlo senza alcuna preoccupazione. Basta rivolgersi alla carrozzeria Marsili. I titolari Stefano e Marco penseranno a tutto facendoti risparmiare tempo e denaro. Carrosseria Marsili, a Livorno, in via Cessoni 59, telefono 0586 40 96 40. Livorno 24. Livorno 24. Livorno 24. Nuovo, gratuito, interattivo, indipendente. Il giornale online che ci appartiene. Livorno 24, www.livorno24.com. Più o meno, consulenza energetica, agenzia leader nel settore luce e gas. Operiamo volture, subentri, cambio fornitore e telefonia. Chiama Marco per una consulenza gratuita. Bene, rientriamo. Avete visto? Preciso, stavo guardando l'orologio perché siamo un po' corti. Andiamo a vedere, sempre grazie all'amico Tommaso Regoli, i risultati e poi la classifica della Serie B interregionale con i nostri sponsor che non finiremo mai di ringraziare. Arrivano subito. I risultati della Serie B interregionale sono offerti da Time Out Sport Lab. Ecco qua i risultati della Serie B interregionale. Vedete la vittoria di Spezze su Quarrate, rottura prolungata e il ritorno alla vittoria di Arezzo su Legnaia. La sconfitta sanguinosa di Castelfiorentino in casa contro Sestri Ponente. Il bel colpaccio di Lucca a San Miniato. La sconfitta di Empoli a Serravalle e poi nel big match di giornata. Il colpaccio di Cecina sul parquet della Stosa Virtussiana. Adesso andiamo con la classifica, sempre prima con lo spottino dei nostri sponsor. La classifica della Serie B interregionale è offerta da Mobilificio Paretti. Arridamento di interni. Ecco qua la classifica, si sta un po' allungando la gradatoria al termine di regione di andata. In testa c'è Cecina a quota 18, la Virtussiana a 16, a 14 Empoli, Lucca e San Miniato nonché Spezze. E poi un gap di 4 punti e via via tutte le altre. Chiude, triste, fa Danilo di coda, Castelfiorentino a quota 2. Qui il big match di giornata è sicuramente quello di Siena tra le due capolista. Allora Stosa Virtussiana e Cecina. Cecina l'ha spuntata 97 a 78. Abbiamo anche delle immagini, se non mi ricordo male Ale. La quinta di fila per Cecina mentre si è interrotta la lunga serie di Siena. Cecina ha dominato 50 a 34 nel primo tempo. L'ultimo vantaggio Stosa, tanto per dire, è stato 5 a 2. E poi è sempre stato avanti Cecina. Cecina che ha tirato col 61% da 2, 20 su 33. Il 44 da 3, 16 su 36. A Virtussiana a Rimbarsi, insomma, una partita dominata in lungo e largo da Cecina che ha portato 5 uomini in doppia cifra. Da citare Pistillo che ne ha messi 25 in altri tanti minuti di utilizzo, 4 su 6 da 2, 6 su 8 da 3. Di là Diminic 21, ma molti fatti quando la partita è era già decisa. Chi mi risponde? È Ciacina la squadra più attrezzata di questo campionato? Vai Francesco. In questo momento sì, sicuramente la squadra che ha avuto più continuità e il roster è un roster valido, ha un giusto mix di esperti e giocatori più giovani. Poi c'è una grande esperanza come Giovanni Bruni, no? Bruni è una sicurezza che va bene. Però ecco, l'unica cosa, magari hanno dei giovani da inserire ancora di più all'interno delle rotazioni, come Zantini, ma anche Bruci, sono giocatori che poi alla lunga secondo me potrebbero diventare utili e potrebbero andare a colmare l'unico forse dubbio che c'è sulla lunghezza del roster. Poi per il resto, se riescono appunto a inserire ancora di più questi giovani, diventerebbe anche un roster profondo e di qualità. I lunghi sono lunghi che per questa categoria sono estremamente buoni. Ieri sono, mi sbaglio, 5 giocatori in doppia cifra. Vuol dire che non dipendono, se mi sbaglio, l'unico è Bruni dei primi 6 e non aveva fatto doppia cifra. Quindi non hanno più nemmeno esigenze che lui faccia sempre 20 e questo già per il tipo di gioco che hanno è un bel vantaggio. Secondo me Cecina è una maggiore indiziata. Abbiamo anche le immagini. La Virtus invece ha fallito quella che era un po' la prova del 9. La Virtus che non nasconde ambizioni importanti, però di fronte all'esame di Laura sostanzialmente ha dimostrato che Cecina in questo momento è ancora più forte. Del resto è un roster Mitch con tanti giocatori che hanno fatto la B, Turini, Bruni, lo stesso Milojevic, insomma una squadra che... Pistolesi. Poi Pistolesi, bravo. Poi c'è un allenatore molto bravo come Andrea Daprata, insomma. Sembra una squadra della B dello scorso anno che era sicuramente qualitativamente meno importante di questo campionato calata in una categoria inferiore. Sì, esattamente. C'è un po' da definire quello che è e quello che sarà la Serie B interregionale che secondo me è un campionato che risente ancora un po' della riforma perché di fatto si chiama soprattutto in questo girone Serie B interregionale, ma è un girone di quasi penso tutte squadre toscane, no? Toscane e Liguri, sì. Poi c'è una piemontese che se ne va alle scrive che è un'intrusa. Esatto, che è lì. Per cui si ritrovano tutte a confrontarsi squadre che già erano in competizione lo scorso anno che stanno facendo un percorso per emergere. Cecina, se è prima, alla fine del girone d'andata, evidentemente lo è con merito. Sono contento per Andrea Daprata, di cui sono stato vice allenatore al primo anno in PL, che ha contribuito a farmi arrivare alla PL Livorno e quindi a farmi vivere questa esperienza. Quindi vi auguro di poter completare l'opera. Sì, dai, mi auguro che loro possano fare molto bene. Poi mi fermo qui perché siamo anche tutti molto scaramantici, quindi non vorrei tirare gufate. Una squadra che invece sta un po' deludendo quando gioca in trasferta è Empoli, che ha perso a Serravalle 83-81. Ha perso male perché la compagine di Valentino era avanti 12 a fine terzo quarto e invece poi ha vinto Serravalle. Empoli, quattro sconfitte di fila in trasferta, abbiamo anche qua le immagini. L'ultima vittoria è datata a 15 ottobre in trasferta. Sono a Legnaia, appunto. 26 di Giannone non sono stati sufficienti. Cerchiaro ha sbagliato il canestro del pareggio. Quando si comincia a perdere così spesso in trasferta, Francesco, magari entra un tarlo? Può darsi, non lo so. Io non conosco benissimo la realtà di Empoli e sicuramente quando si perde poi diverse partite fuori casa magari delle domande ci si fanno e si prova... Poi insomma, avanti 12, finita il terzo quarto, diciamo... Sì, fanno la palacanestra così purtroppo. Sì, che bisogna vedere. Poi loro sicuramente sapranno come comportarsi. Sinceramente non lo so perché dovrebbe conoscere più da vicino la realtà per sapere... Chi invece sta facendo molto 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 bene è Lucca, una squadra che secondo me ha le possibilità di fare un campionato veramente di alta classifica. Ha vinto a San Miniato, che è la seconda sconfitta consecutiva, 88-79. Lucca ha il quarto successo di fila. Lucca ha tirato col 63% da due punti, che non è mai facile. Ha avuto 18 punti da Simonetti con 9 su 15 da due, 9 rimbalzi, 18 del debbio, 15 lippi. Di là 25 di Menconi, 14 in 12 di Giovanovic. Lucca, Federico con del debbio, Lippi, Tempestini, Burgalassi, una squadra che è barzante, che se è ingiornata può battere chiunque. Può battere chiunque. È in un momento di risalita, di classifica, di risultati e di gioco. Ha avuto un andamento un po' schizofrenico perché è partita a fase al tele, poi ha perso tre partite di fila, si sono compattati nell'anno 24. Infatti sono molto curioso di vedere qual sarà il percorso nel prossimo mese o da qui alla fine di dicembre per vedere se troverà quella continuità che gli servirà per rimanere e per salire ancora di più in classifica. Non gli manca niente nel roster, nell'esperienza dei propri giocatori per riuscire a salire ancora. Un'altra squadra che invece sta salendo è Spezia che ha vinto la seconda partita di fila contro Quarrata, costringendo la compagine di Alberto Tonfoni al quarto stop di fila. Spezia ha tirato benissimo, 11 su 23 da tre punti, Quarrata 9 su 33. Già questa percentuale Mitch fa capire la differenza dalle tue squadre. Una partita che si è decisa nel terzo quarto, 21 a 12 per Spezia che ha avuto un Matteo Paoli in versione deluxe, 22 punti con 6 su 8 da 3. Carpani 19, Sacalas 14, l'altro Paoli, Filippo 12. Di là il solito Regoli a 21 con 8 rimbarzi, Antonini 16. Spezia è una squadra che ha tanti punti nelle mani, i due Paoli, Sacalas, quando rientra Rajacic, lo stesso Carpani che sta facendo molto bene. Assolutamente, sono una squadra attrazione anteriore, sono particolarmente contento e li seguo per i gemelli Paoli, Filippo e Matteo. Scorsano l'hai avuto uno, no? Ho avuto Filippo e ho avuto modo di conoscere Matteo, lavoro con Marco Paoli che è loro padre, quindi li seguo con affetto e dico che per loro è finalmente un'occasione di affermarsi ad un livello in cui tanti addetti ai lavori hanno sempre detto ma forse però fisicamente non ce la fanno, invece loro due hanno grandissimo talento offensivo, sono due ragazzi che hanno un'attitudine al lavoro fantastica, sono due ragazzi che ogni allenatore vorrebbe poter allenare, ma lo dico veramente credendo in quello che sto dicendo e poi hanno quella caratteristica che a noi allenatori non dispiace, cioè fanno canestro molto spesso. Ci sono tanti che fanno canestro, sì sì, ma loro in particolare, diciamo che sopperiscono con la loro intelligenza cestistica e la loro capacità di far canestro ai centimetri che gli mancano per poter giocare in altre categorie. Tra l'altro Spezia alla seconda di fila in un buon momento, chi invece torna alla vittoria finalmente, vien di dire, dopo quattro sconfitte consecutivi che l'avevano fatta precipitare in classifica è Arezzo. Arezzo batte 77 a 69 Legnaia, una partita alle basse percentuali, la differenza l'hanno fatte le 10 bombe di Arezzo su 24 tentativi. Evangelisti ha avuto 15 punti da Zocca, 14 da Daniele Rossi e Semprini Cesari, di là 14 di Sacchellari, 11 di Mascagni, 10 di Nicoci. Quanto è importante questa vittoria di Arezzo, Francesco, che interrompe la serie di quattro K.O. consecutivi. Una squadra non dal roster eccelso, però allenata bene che non muore mai. Sicuramente vincere dopo quattro sconfitte è importantissimo perché smuove la classifica, ti prende un po' più di tranquillità, di consapevolezza di quello che puoi fare. Arezzo è sicuramente una squadra tosta da incontrare, soprattutto là da Arezzo, sono sempre state partite difficili, quelle fatte ad Arezzo, quindi secondo me poi piano piano potranno trovare il modo di risalire la classifica. L'allenatore è un allenatore espertissimo, perciò non credo abbia problemi a rimettere in sesto tutta la situazione. Chi invece ha fallito una grossa occasione per abbandonare il ruolo scomodo di fanalino di coda è Castelfiolentino, Castelfiolentino che nelle ultime due aveva battuto Empoli e poi era andata vicina a fare il colpaccio a Firenze con Legnaia. La partita contro l'altro fanalino Sestri Ponente sembrava fatta apposta per portare a casa due punti, invece è arrivata una sconfitta sanguinosa per 93 a 76. Castello era partito bene, poi si è perso, Sestri allungato. A Angiolini non sono bastati quattro uomini in doppia cifra che però hanno realizzato 66 dei 76 punti complessivi. Questo per dire che il supporto in cast, per usare un termine che usano quelli bravi, ha dato veramente molto poco, no Federico? Eh sì, in questo caso sì. Quando una squadra non parte bene come è accaduto a Castelfiolentino quest'anno, rimettersi in carreggiata non è mai semplice perché quando le criticità arrivano inizio anno, ritrovare la strada giusta non è mai semplice, sembrava esserci riuscita Castelfiolentino però questa era una partita dove veramente avevano tutta la pressione addosso perché non potevano sbagliare, la partita è girata in maniera storta però il campionato è ancora lungo e secondo me c'è ancora tempo per sistemare le cose. Assolutamente sì, prima di andare a parlare di Serie C c'è un messaggio, ci sono due di un nostro amico, Avellino aveva preso per l'occasione Chinellato che è un fuori categoria, si riferisce ovviamente alla partita della Libertas, lo abbiamo detto e poi prima di parlare di C c'è un messaggio, una domanda per te, evidentemente questo è un tifoso libertassino, volevo sapere da coach Belletti che squadra è Piacenza? Piacenza è una squadra che ha cambiato a inizio stagione l'allenatore, prendendo Giorgio Salvemini che è un esperto, oltre che essere un formatore proprio di allenatori, che secondo me sta costruendo un'identità a Piacenza, secondo me non è una squadra di prima fascia ma è una squadra che ha dimostrato soprattutto in casa di poter fare scalpi importanti, per cui viene da tre vittorie di fila se non sbaglio, viene da tre vittorie di fila e ha vinto in maniera netta con Salerno che noi andremo ad affrontare appunto dopo domani. Bene, allora direi di fermarci per quanto riguarda la Serie B interregionale, un campionato indecifrabile perché poi ricordiamo ci sarà l'incrocio con l'altro girone dove ci sono squadre importanti anche con tradizione come Pavia, è la prima che viene in mente, c'è Rondo che è molto forte, direi di andare a vedere quelli che sono i risultati della Serie C girone A. Eccoli qua, vedete, qui sono tutte toscane quindi è più semplice, San Vincenzo che ha battuto Sansepolcro, poi la sconfitta di Prato con Bottegone, la vittoria di Montevarchi contro Union, quella di Val di Sieve con US, l'ennesima sconfitta di Fucecchio con Alto Pascio che ha messo dentro il giocatore niente affatto male e vediamo anche la classifica, qua abbiamo un nuovo sponsor che ci dà una mano nella realizzazione di questa trasmissione, lo ringraziamo caldamente, si tratta della Visvederi Group che tra l'altro è lo sponsor della squadra prima in classifica. Andiamo con lo spottino e poi la classifica. La classifica della Serie C girone A è offerta dal gruppo Visvederi, innovando oggi per la salute di domani. Ecco la classifica, vedete Costone Siena, sponsorizzato Visvederi nettamente prima a quota 18, a 14 San Vincenzo solitario al secondo posto, poi a 12 Montevarchi, Prato e Sansepolcro, US e a 10, poi vi avrete tutte le altre, fino ad arrivare al Fucecchio che non ha ancora vinto la partita, è l'unica squadra senza successi di questo campionato. È il tuo momento, state facendo un grandissimo campionato, avete battuto Sansepolcro, però da Matericola francamente è vero che avete messo dentro un giocatore importante come Bianchi, è vero che c'era un totem come Persico, ma nessuno e non perché sei qua avrebbe pensato che foste secondi al giro di Boa, soli. È stata una bella sorpresa anche per noi, la promozione che poi è una promozione particolare, perché noi si venne dalla Serie D e praticamente essendo scomparsa dalla Cisil, sono due categorie che noi andiamo a giocare contro squadre con cui non avremmo giocato normalmente, quindi era un po' un punto interrogativo. La squadra è stata costruita per salvarsi, il nostro obiettivo è sempre quello, sempre quello della salvezza e chiaramente per come è la formula quest'anno... Abbiamo anche le immagini della vostra partita, eccola qua. Per come è la formula quest'anno il primo step per poter salvare è rientrare tra le prime quattro, il primo tentativo che facciamo è quello, se poi non ci dovessimo riuscire c'è sempre il discorso della seconda fase con l'incrocio con il girone B. Sicuramente è una piacevole sorpresa anche per noi essere lì. Assolutamente sì, voi avete battuto Sansepolcro dopo aver battuto nel recupero Prato, che è la grande favorita del torneo che sta affrontando un momento di difficoltà, avete avuto cinque uomini, se non sbaglio in doppia cifra, Camillo Bianchi 27 e un pensiero va a Camillo perché è sceso in campo nonostante la grave perdita che ha avuto pochi giorni prima della partita, un caloroso abbraccio e sentite condoglianza a Camillo da parte del sottoscritto e di tutta la relazione sportiva e non di telecentro. Poi 15 da Guerrieri, che è uno bravo per definizione, poi è di Zanassi, 12 di Persico, 11 di Bazzano. Una grande prestazione al di là del fatto che a Sansepolcro mancavano due giocatori importanti come Hassan e Mihailovic. Sì, senza dubbio. Noi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo tirato con percentuali alte sia da 3 punti che da 2, abbiamo difeso restando nelle regole quello che avevamo preparato durante la settimana e sicuramente ha inciso per loro l'assenza di Hassan e Mihailovic, sono forse due dei loro tre migliori giocatori. Insieme a Bazzano. Insieme a Bazzano, che è un giocatore buono anche lui, veramente bravo, e sicuramente questo ha inciso. Però la partita andava vinta, avevamo giocato 48 ore prima, loro avevano invece giocato la domenica prima, quindi avevano una settimana. e non era semplice, perché insomma Prato un po' di energie ce l'aveva portate via, sia per il livello della partita, sia giocare da loro e vincere, siamo stati davanti 40 minuti, quindi anche a livello soltanto mentale, nemmeno tanto fisico, eravamo abbastanza provati il venerdì quando ci siamo trovati in palestra per preparare Sansepolcro. Però sono stati bravi e sicuramente, come hai detto te, le due assenze loro hanno inciso. Bazzano è 18, tanto per dire, Spillantini 11, Diatolov 10 per quanto riguarda Sansepolcro. Dimmi due parole su San Vincenzo, fai conto che il coach non sia qua. Allora, se faccio conto che non sia qua, dico che San Vincenzo è assolutamente la sorpresa positiva di tutti i due gironi, quantomeno per quella che era l'idea che mi ero fatta in inizio anno, credevo, avevo visto la parità di Coppa, giocata qui a Livorno con US e si intravedeva fin dall'inizio, che era una squadra solida, ben allenata e interessante, ma non mi sarei mai immaginato che... L'altra non è il secondo migliore attacco del torneo, dopo Piscone, che è la squadra anche fuori categoria. Anche la seconda migliore difesa. Anche la seconda migliore difesa. Giocano veramente bene, sono una squadra piacevole da vedere, però il campionato fa gli scongiuri ancora lungo ed è difficile perché è un girone con tante buone squadre, secondo me proprio vuoi essere Livorno che credo affronterete a breve o al prossimo turno, il prossimo turno è una squadra che può risalire in classifica, quindi c'erano tante partite belle e emozionanti da vedere. Tu invece mi devi dire due parole su Camillo Bianchi, che è fuori categoria. È fuori categoria, io ho avuto l'opportuna di lavorare con lui da ragazzino, abbiamo fatto io nello staff e lui da giocatore un europeo con la nazionale Under 16, di cui lui era capitano e è un ragazzo a cui è impossibile non affezionarsi e credo che con la partita che ha fatto domenica in questa situazione molto particolare per lui descriva se ce ne fosse stato bisogno che tipo di persona è oltre che di giocatore è Camillo e quindi ha veramente emozionato tutti noi che lo conosciamo nel fare questa cosa qui, però per chi lo conosce penso che anche il suo allenatore sarebbe d'accordo, non è che abbia proprio sorpreso, Camillo ha quel tipo di spessore lì a livello umano e questa domenica ne ha dato dimostrazione. Senza dubbi. Sì, quello che penso di Camillo non sarebbe cambiato una virgola anche se non avesse giocato domenica, perché si sta parlando una persona, insomma veramente la bontà della persona va oltre quello che sono le qualità del giocatore. Lei dice lunga. E chi la dice lunga? Perché sulla qualità del giocatore lo sappiamo tutti. Capo camminare del torneo. Esatto. E niente, lui è venuto, si è presentato in palestra, io gli ho domandato come mi devo comportare e lui mi ha detto allenami come fosse una domeniava lunga e io ho fatto così per rispettare quello che era la sua volontà. Adesso non puoi nasconderti, un posto nei primi quattro devi provare quanto meno arpionarlo, non mi raccontare che l'obiettivo è la salvezza, perché dopo un giro è andata... Ci proviamo sicuramente perché vorrebbe dire essere salvi a febbraio e quello per noi sarebbe, il nostro obiettivo sarebbe raggiunto diciamo, ci proviamo perché siamo lì a secondi e poi niente, tutte le domeniche si va sempre in campo per vincere chiunque sia la squadra quindi essendo secondi se proviamo a vincere sempre ci rimaniamo nulla e vediamo come vanno. Comunque la classifica nostra è estremamente corta perché tra la seconda che siamo noi e la penultima... Mettere i vari avanti. No, ci sono sei punti. Va bene, ma sei punti sono tanti, mancano dieci partite. Va bene, dai. Ancora, dai. No, 12. Va bene. Allora, per una scuola che sta benissimo, che è la tua, San Vincenzo, ce n'è una che invece sta battendo in testa, si tratta della SIBE Gruppo F Prato che ha perso con Bottegone. Ha perso due partite in quattro giorni, la compaggia di Pinelli con voi e contro Bottegone. Bottegone ha fatto benissimo, ha chiuso avanti i 12 il primo tempo, è arrivata a fine più 24, Prato ha provato a rimontare ma alla fine l'ha spuntata Bottegone che ha avuto 30 punti in 31 minuti di utilizzo da Ammati, un giovane molto interessante e 21 da Riccio che la scorsa settimana mi pare ne aveva messi 38. 38 a noi. 38, a voi, già, vero, giusto. E siccome Prato era la grande favorita del torneo è corretto andare a sentire colui che questa squadra la guida, vale a dire il coach della SIBE Gruppo F Prato, Marco Pinelli, prego per effezzionare il collegamento telefonico. Che legati sei fatto tu di questo momento così e così di Prato che dopo che c'è stata l'alluvione, che gli ha interrotto gli allenamenti sostanzialmente per una settimana, ha cominciato a battere in testa? Hanno perso un po' il ritmo, difficoltà di allenarsi, sono tutte dinamiche che succedono nello sport e che succedono nella palacanestro e vediamo anche qui cosa succederà nelle prossime partite, se è soltanto un periodo particolare in attesa di riprendere la condizione e la decisione nel modo nel quale vengono affrontate le partite oppure c'è davvero una mini crisetta di risultati. Abbiamo perfezionato? Allora nel frattempo ce lo teniamo in sospeso, chi sta andando bene è Montevarchi di quella vecchia Volpe di Riccardo Paludi, 78 a 62 con Union, la formazione natale, la sinergia tra palacanestro Prato e Campi Bisenzio, una partita sempre condotta da Montevarchi, 46 a 35 all'intervallo lungo, ha avuto 5 uomini in doppia cifra, Montevarchi con Pedicone 19 e Boncena 18, bene anche Valdisieve che ha battuto l'US 84 a 63 con un altro giovane di belle speranze come Gigi Occhini che ne ha messi 27, 15 Municchi di là del Monte Iardella 16, 13 di Vertolini, l'US è partita meglio ma poi Valdisieve ha reagito e è scappata via nel secondo tempo, 38 a 38 all'intervallo lungo. Abbiamo perfezionato? Bene, abbiamo perfezionato il collegamento con Marco Pinelli, il coach della Sibia e gruppo AF Prato. Allora Marco, è un momento così e così, è crisetta o è crisi vera? Ma intanto buonasera a tutti, saluto gli ospiti in studio. Ciao Marco, un abrazo. Mi accodo, buonasera, mi accodo all'avvicinanza e all'abbraccio di tutta quanta la pescana dei canestri a Camillo Bianchi, a nome nostro e tutta la nostra squadra e tutta la nostra società perché si tratta di un ragazzo che ha dei valori importanti, anche io ho avuto il piacere di allenarlo e confermo tutto quello che ha detto coach Belletti e col Baroni, è un ragazzo di straordinaria profondità, quindi gli mando a nome di tutta la Draco Semi un grandissimo abbraccio. Per quanto riguarda noi, noi siamo un gruppo dove stiamo provando a trovare energie, risorse, il momento di rispettura, le rispettura ci sono, quando si prova, siamo comunque da anni, per 3-3 anni abbiamo fatto molto bene. Un periodo di flessione ci sta, abbiamo spinto tanto in questo periodo qui, nell'ultimo mese abbiamo avuto delle difficoltà oggettive, dettate anche dalla quotidianità, però ecco, mare che è su, olio di gomito, lavoro in palestra, io sinceramente altre medicine non ne conosco. Senti Marco, è un caso che questa flessione sia arrivata dopo i tragici fatti alluvionali che hanno colpito Prato, oppure è semplicemente un caso? Ma non lo so, è un po' insieme di cose, ovviamente fino a quel momento lì riuscivamo bene o male ad allenarci in maniera regolare e per noi allenarci in maniera regolare vuol di fare tre allenamenti la settimana di un'ora e mezza, quindi la quotidianità è molto particolare. All'inizio dell'anno questa cosa qui era stata alleviata perché appunto nella nostra organizzazione nella prima fase dell'anno, fino a tutto settembre, riusciamo con gli spazi comunali a gestire un'attività quotidiana e quindi anche i ragazzi che hanno cambiato un po' asset di vita, anche come Artioli, come Casella, come lo scorso anno Salvatori, diciamo che all'inizio di questa volta hanno risentito poco perché comunque tutti i giorni noi avevamo la possibilità di allenarci, da ottobre e novembre abbiamo cominciato regolarmente a allenarci tre volte alla settimana, quindi diciamo siamo andati abbastanza di slancio, così, diciamo che i dieci giorni dove siamo stati fermi con l'alluvione e magari ringraziamo anche gli amici di San Mignato per averci potuto prestare l'impianto per fare lamento, è stata una cosa casuale, però abbiamo apprezzato moltissimo, però sinceramente nel momento in cui stavamo cominciando a entrare in condizione, star fermi dieci giorni e poi dopo da lì un fortino di Stein, un fortino di Verni, siamo senza smecca dalla terza di campionato, un pochino di ritmo ce l'ha tolto, però questo è un momento dove anche i nostri giovani stanno comunque dando una mano, stanno crescendo e il gruppo comunque sta facendo e continuando a fare un lavoro veramente importante, perché il saper resistere in questi casi è fondamentale, non vengo lì a fare tanti discorsi di dire ma non gioco a nascondino, la difficoltà c'è, però ecco, con grande dignità e grande senso del dovere si tira sulle mani che si lavora, insomma non c'è altra medicina. Queste parole ti fanno molto onore perché era semplice anche dire no, vabbè lasciamo stare l'intervento telefonico, lo facciamo un'altra volta, invece è un momento di difficoltà, ti ringraziamo per essere qua con noi. L'ultima domanda Marco è, ma fate qualcosa o state così dal punto di vista del roster? No, no, stiamo così, stiamo così perché è giusto adesso che il gruppo continui il suo processo di crescita, è giusto che il gruppo adesso continui a lavorare sulla divisione delle responsabilità, è giusto e coerente anche dare ai nostri giovani la possibilità di poter continuare il suo percorso di crescita. Ieri faccio un esempio, Malfredini è entrato, ha fatto veramente molto molto bene, in fondo sul meno 5, ha perso due palloni sanguinosi, però comunque ha continuato a lottare, ha continuato a pressare, ha fatto un altro recupero importante, sono situazioni dove da lì sono sicurissimo che ne trarrà grande crescita e il sostegno di tutto quanto il gruppo da questo punto di vista e di tutto l'ambiente è stato importante. Penso che la qualità degli ambienti faccia la differenza di questa opinione qui, nei momenti di difficoltà la qualità degli ambienti si vede, se questo deve essere il nostro obiettivo di creare comunque anche un ambiente negli anni sia credibile, è proprio un momento di difficoltà che deve esserlo veramente, altrimenti ci si riempie la bocca con dei grandi discorsi e basta. Certo, bene Marco io ti ringrazio, sei sempre stato gentile e cortese come sempre, ti aspetto qua o mi mandi il capitano, insomma decidi tu. Il capitano viene volentieri e te lo manderò senz'altro. Allora già lui disse se Milo Staino vuole venire qua è più che ben accetto. Ti ringrazio Marco in bocca al lupo per il proseguo del campionato, un abbraccio e grazie di essere stato qua con noi, grazie che ricambiano e grazie di essere stato qua con noi perché non è semplice quando le cose non vanno bene parlare o come si suol dire metterci la faccia anche se comunque stiamo parlando di sport. L'ultima partita da analizzare è quella del girone A, è quella tra Fucecchio e Alto Pascio, Francesco, Alto Pascio sembra aver trovato il jolly perché ha messo dentro Barbarosa, un croato che aveva appena vinto il campionato mondiale universitario, pronti via, 33 minuti in 26 di utilizzo, determinante nella vittoria 78-72 a Fucecchio, Fucecchio che come al solito cede nel finale. Sì, non lo conosco perché non l'ho ancora visto giocare. Quando ci giocate? Ora. Preciso. Poteva aspettare, poteva. Preciso. Ci gioca dopo su la QS e poi la partita dopo è con loro. Sì, c'è da dire che Fucecchio è a zero ma sinceramente tante partite si sono giocate fino alla fine. Con noi, per prima, noi abbiamo vinto di due a Fucecchio perché abbiamo preso il rimbalzo offensivo se non loro avrebbero più. Fucecchio si è giocata praticamente con tutti. Infatti io gli feci anche complimenti a Corsi. A Samuele. Sì, perché con noi in un paio di situazioni dove avevamo fatto dei break che sembravano decisivi, invece loro sono riusciti a ricucirli nel tempo di due o tre minuti. Niente, a Topascio vediamo ora questo, sono due ragazzi nuovi, hanno preso anche perché hanno avuto... Cannone, hanno perso Bencherini. Hanno perso Bencherini e dal canto. E dal canto, dal canto per infortuna mi pare, Bencherini per motivi lavorativi. Per motivi lavorativi andavo fuori regione, così so. Quindi hanno sostituito loro due e vediamo ora come sono, ci informeremo un po'. L'inizio non è niente male, tenete 3 punti, 26 minuti, poi i croati, il canestro, un miccio, non è che non gli riesce, no? Assolutamente. Hanno poi, penso, una rabbia agonistica e una voglia di emergere che... A volte si arriva da qualche italiano, si può dire? Sì, si può dire, anche se io credo molto anche nei giocatori italiani, ovviamente, essendo anche poi i giocatori che ho allenato di più. Bene, allora, siamo in chiusura nella nostra trasmissione, ci rimane altro che da analizzare il girone B della Serie C, prego di andare con i risultati. Eccoli qua, sempre con le splendide grafiche di Basket World Life. Vedete, la vittoria della Menzana a Livorno, una partita bellissima, degna di categoria superiore, si trattura 70, Don Bosco è stato sempre avanti, poi la Menzana con Tognazzi ha trovato la vittoria. Bella vittoria di Agliana a Livorno-Sponda-Fides, in crisi Fides, poi ne parleremo. La Cosmo Care vince a San Giovanni Vardanno contro la Sinerci, vittoria dopo un supplementare della Sancat su Carrara, poi la sorpresona di giornata, la vittoria di Monzummono, tanto una 75 con Firenze, ha riposato Ponte Nera. Vediamo anche la classifica con lo spottino del nostro sponsor. La classifica della Serie C è offerta da Cosmo Care, servizi sociosanitari, assistenza domiciliare in Toscana. Bene, allora Sinergi non è A, comanda Costone, qua è un'autentica melassa, perché in testa la Menzana a 16, poi non una, non due, non tre, non quattro, ma cinque squadre al secondo posto a quota 14. Pino Firenze, Ponte Nera, Don Bosco, Toscana Fu Don Bosco, Sancat e poi via via tutte le altre. Chiude la Sinergi Vardanno, che in serie negativa mi pare da otto giornate. Bene, andiamo velocemente a vedere quello che è accaduto, partendo dalla sfida di Livorno, che era il big match di giornata, abbiamo anche le immagini. La Menzana vince 71 a 70 al Don Bosco, Federico l'abbiamo vista assieme, prego di mettere a video le immagini, Don Bosco quasi sempre avanti, poi nel quarto finale è arrivata la vittoria di Siena, che ha vinto con una triple di Puccio ogni prima e una perimetriazione di Tognazzi, mancavano 14 secondi, poi Giacchetti ha sbagliato la triple della vittoria, però è stata una partita veramente molto bella. Bellissima partita, grandissima intensità, veramente di livello superiore, pressione da tutte e due le parti, mani addosso, tuffi sulle palle vaganti, partita finita e risolta negli ultimi secondi, veramente bella da vedere da fuori. Don Bosco è una squadra di ragazzini, come sappiamo si stanno allenando tanto, sentivamo prima, tanto e bene e hanno fatto anche alla fine di una partita dove non hanno portato a casa il risultato, hanno fatto una super prestazione. Assolutamente sì, per Siena che è la quinta di fila, una squadra che sta facendo benissimo, fra l'altro c'erano diversi tifosi di Siena a Livorno, 20 di Tognazzi, 10 a testa di Pannini e Marrucci, di là 17 di Tartamella, 13 di Giacchetti, 12 di Regoli e Deri. La menzana secondo te Francesco è la più forte del girone? Quello che ha fatto vedere fino adesso sì, direi, sicuramente è la candidata a arrivare al primo posto nel girone B, Don Bosco sta facendo bene, Don Bosco anche sopra le aspettative perché sinceramente conosco i ragazzi perché ci ho giocato contro quando allenavo dei giovanili contro alcuni di loro, perciò sapevo che erano bravi, però un conto essere bravi, sono tanti 2004 se non mi sbaglio, un conto essere bravi e un conto vincere poi con i grandi, loro stanno dimostrando di fare veramente bene, stanno facendo, secondo me sono la rivelazione del girone. Forse anche dell'intero campionato. Secondo me sì, per la giovanità che hanno, per come stanno giocandosi tutte le partite, vincendo anche partite importanti, secondo me sì. Sono realtà amici quelle del Don Bosco, ma ce ne sono diverse in questo campione, in questo girone, Sankat, Pino, che lanciano tanti giovani, sono realtà che fanno bene al movimento, al di là dei risultati. Sì sì, io penso poi anche che questi campionati debbano diventare sempre di più un laboratorio per i ragazzi giovani, apprezzo tantissimo chi ha il coraggio di lanciarli e poi non è necessario sempre, voglio dire, essere tra virgolette estremisti con la squadra tutta composta di giovani, perché io credo anche fortemente che l'inserimento di due o tre senior di esperienza sia altrettanto utile nella crescita dei giovani, però se vogliamo averli pronti, devono avere la possibilità di sbagliare in campo. Assolutamente sì, c'è una domanda per te, anche un po' criptica, domanda per il coach Baroni, complimenti per le vittorie, ma mi conferma che è un gioco? Questa è criptica, adesso ce la spieghi però. Questo è un mio giocatore. Ah, addirittura? Sì, di sicuro, lo so. No, non lo dico, perché ora lo cazzo domani. Fa riferimento a qualcosa, a qualche frase che tu hai? A un meme che viene le spogliatoi sempre. Di non prendersela, che è un gioco, quando magari mi vedono un po' arrabbiato. Capito. Quindi questo è un messaggio in codice, qualche giocatore che ti guarda, lo ringraziamo. Poteva firmarsi, così andava ad persona a me il nostro coach. So chi è. Sai chi è, quindi? Vabbè, povero lui. No, vabbè. Giri di campo, cosa gli puoi fare? No, 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 no. Poi, sempre del resto del programma, la vittoria sorprendente di Monsummano, seconda vittoria stagionale su Pino, che è la seconda sconfitta consecutiva, era ex capolista fino a 15 giorni fa, 22 di Corradossi, 14 di Landi, 10 di Castelli, 10 di Marotta, a proposito di esperti. Pino, una scuola giovane con questi due esperti. Monsummano è ritornato al successo, 21 di Manetti, 19 di Tomei, 15 di Calderano, 13 di Meaccio, una pilla su Monsummano. Federico, secondo me è una squadra che per roster doveva avere qualche punto in più, danesi, quelli che ho detto, probabilmente gli infortuni hanno pesato tanto. Hanno pesato, però è un'altra squadra che secondo me può tornare ancora su in classifica e può continuare a dare appunto continuità nel suo percorso. Bene, anche l'altra squadra di Firenze, la Sancat che ha battuto Carrara 82-73, dopo un supplementare Carrara, l'abbiamo detto prima di Empoli, Carrara avanti 11, fine terzo periodo, poi ha subito un parziale tra terzo periodo e supplementare di 33-19 che ha dato alla Sancat la terza vittoria di fila. Berti 27, a proposito di giocatori importanti, 16 di Pracchia, di là 25 di Tedeschi, 21 di lusso. Tedeschi sta facendo un campionato veramente forte di Carrara, lungo, che era Spezia, sta facendo veramente molto bene. Una squadra che è in crisi invece è Fidesz, Fidesz ha perso con Agliana, Agliana è la terza vittoria di fila, come Gambassi ha ritrovato il roster al completo, la sua squadra è rifiorita. Una squadra forte secondo me come il roster Agliana, 20 punti di Catalano, 16 di Nieri, 16 di Rossi, 15 di Mucci. Invece Fidesz era avanti di 8 all'intervallo lungo e poi ha preso un parziale di 27-6 nel terzo periodo e lì la partita è andata dalla parte di Agliana. Fidesz aveva fatto anche una programmazione di fare rientrare dei giocatori che sapeva che sarebbero stati infortunati fino a fine novembre, inizio dicembre, quindi è sempre stato un working progress il lavoro che ha fatto in palestra e non è una cosa banale. È anche vero che i risultati sono forse, anzi sicuramente sono un po' sotto alle aspettative, ma un roster che è in grado di recuperare, anche se sei punti dalla zona, le prime quattro sono tanti perché non sono da recuperare nei confronti di una sola squadra, ma di un paio. Quindi non sarà tanto semplice il cammino, anche se ha un roster che le può permettere di fare un recupero super. Poi bella vittoria del Cuspisa a San Giovanni Valdanno contro la Sinergi all'ottavo K di fila per il Cusse, il primo successo esterno. Coppi 21, Quaglia 16, Ceccherini 11 per la Sinergi, per Cristiano Forti, 20 di Siena, 13 di Giannelli, 12 di Fiorindi. Siamo arrivati in conclusione, me li dai altri tre minuti? Perché ci sono dei messaggi per Mitch, gli altri ne abbiamo diversi, purtroppo non ce la facciamo a leggere, ma a questi mi fa piacere leggerli. Il primo volevo sapere da Mitch, dice Michele, ma io dico Mitch perché sei Mitch per tutti, ma quando firmi cosa metti Michele o Mitch? Se il suo obiettivo è quello di diventare head coach? Sì, la risposta è sì, è l'ambizione, il sogno, il motivo per cui faccio questo mestiere tanto lontano da casa. Credo fortemente nella gavetta, credo fortemente che per potersi proporre credibile in una categoria importante bisogna aver imparato da quelli bravi, bisogna aver provato in diversi club, qualche esperienza adesso in giro per l'Italia l'ho fatta e resta poi che qualcuno creda in me e nella possibilità di poterlo fare per davvero. E poi c'è un altro messaggio, vorrei chiedere a coach Belletti, secondo lui qual è la squadra più forte del girone e del campionato? Allora, abbiamo detto prima, secondo me la classifica in questo momento rispecchia abbastanza quelli che sono i valori, avendoci giocato contro in finale Supercoppa e seguendo un po' anche l'altro girone dei detti lavori, credo che Rubo di Puglia sia... L'altro Ieni è vinto a Roseto che non è mai facile, no? Esatto, in un modo o nell'altro Rubo di Puglia vince perché è una squadra forte, ben allenata e con quel talento individuale nelle mani che risolve le situazioni da Jackson a Contento, tutti i giocatori che possono cambiare da soli l'esito della partita. Il pacchetto di lunghi di primissimo ordine, adesso con Eli Antonio hanno anche aggiunto pericolosità al perimetro anche con i lunghi e di conseguenza probabilmente la più forte di tutte sono loro a seguire secondo me in questo girone Iros e Libertas, però non mi nascondo dietro un dito, mi piace pensare che anche noi lotteremo con le migliori per vincere. Bene, siamo arrivati veramente in conclusione, ecco il solito messaggio del nostro amico, come sempre ecco la vostra tassa, vorrei sapere dai tre ospiti chi vincerà lo Scudetto. Questo è il nostro amico, è un aficionado, ce lo manda sempre e noi sempre gli rispondiamo. Basta soltanto però, non una motivazione, ma una serie A1, Virtus Bologna, un plebiscito per Coach Banchi che non sarà all'ascolto, ma se è all'ascolto sarà facendo i debiti scongiuri. Noi siamo arrivati veramente in conclusione di questa nuova puntata dell'edizione del 2023 di Toscana Basket, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio di essere stato qua con noi il coach della Garden Toscana Resort San Vincenzo Francesco Baroni, ciao Francesco. Grazie a voi. Sempre un piacere, ti riaspettiamo, mi raccomando di essere troppo cattivo quando fai il cazziatore a tua squadra. Poi è sempre un piacere avere qua con noi Federico Delia, un nome e una garanzia, grazie Fede. Grazie a voi. E poi ringrazio di essere stato qua con noi alla vigilia di una lunga trasferta, quanti chilometri sono, Miccio? Qui mi cogli in preparato, però penso sia la trasferta più lunga, sarà un 1.200. L'assistente coach della Caffè Toscano PL, Michele, Michi Belletti, grazie Michele. Grazie per l'invito. Bene, assolutamente. Grazie a tutti voi, ma grazie ospiti, ma grazie a tutti voi amici telespettatori che ci avete seguito. Ricordo l'appuntamento per la prossima settimana, sempre alle 20.30, sempre su Telecentro. Se vi volete rivedere la puntata, oltre alle nostre repliche, da domani la puntata sarà fruibile sul canale ufficiale YouTube di Telecentro che sta avendo molto successo, ogni settimana 4-500 visualizzazioni, oltre alle tante persone che ci vedono in diretta. Davvero, grazie, grazie, grazie. È uno sprone che ci spinge a fare sempre qualcosa in più. Grazie, ci vediamo lunedì con Toscana Basket. Grazie a tutti.